Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it L'eparina è un farmaco importantissimo ed è annoverato dall'OMS nella lista di quelli considerati essenziali È infatti fondamentale per evitare le trombosi nei soggetti a rischio Ma cos'è esattamente e come funziona l'eparina? Perché non può essere assunta per via orale e come si utilizzano correttamente le siringhe preriempite? In questo video rispondiamo a queste e altre domande sull'eparina Se ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale L'eparina è un farmaco con una molecola molto grande il cui peso può arrivare fino a 40.000 Dalton Fu scoperta da uno studente di medicina a Baltimora che stava isolando delle molecole da tessuti di cani E poi fu messa in commercio a partire dal 1940 Il nome deriva da epar che in greco vuol dire fegato proprio perché ne erano molto ricchi i fegati dei cani che venivano studiati Attualmente l'eparina che è in commercio viene prodotta a partire dall'intestino di una particolare razza suina Che poi viene frazionata in molecole di eparina più piccole dette a basso peso molecolare o eparina frazionata L'eparina è un farmaco anticoagulante cioè in grado di inibire il processo di coagulazione del sangue Questo processo è fondamentale quando ci feriamo per fermare l'emorragia ma in alcuni casi è importante fermarlo Infatti in alcuni pazienti possono formarsi dei coaguli di sangue anomali definiti trombi Anche quando non c'è alcuna emorragia in corso Questi trombi viaggiano all'interno del circolo sanguigno e possono arrivare ad organi importanti come il cuore o il cervello Causando infarto, eschemia cerebrale e anche la morte L'eparina previene questo evento perché riesce a potenziare anche di 2000 volte l'azione dell'antitrombina 3 Che come si capisce dal nome è uno dei fattori che inibiscono la coagulazione del sangue Grazie alle sue proprietà anticoagulanti l'eparina risulta utile in tutti quei pazienti in cui l'equilibrio nella coagulazione è spostato verso la formazione di trombi Quindi nei pazienti affetti da malattie cardiache, da ostruzioni delle coronarie e da aterosclerosi Nei pazienti con problematiche circolatorie alle gambe o affetti da difetti della coagulazione come la trombofilia O ancora in tutti quei casi in cui si ha una riduzione del flusso sanguigno Quindi dopo un intervento chirurgico maggiore, anche un parto cesareo Oppure dopo una frattura o nei pazienti anziani che hanno una ridotta mobilità o in alcuni casi sono allettati L'eparina viene utilizzata anche in moltissimi altri casi quando il medico ne ravvisi la necessità Basti pensare ad esempio che è stata molto utilizzata per evitare la formazione di trombi nei pazienti affetti da covid ospedalizzati Durata della terapia e sua eventuale sospensione sono ad esclusiva valutazione del medico Non è possibile dare delle indicazioni generali perché ogni situazione deve essere attentamente valutata La principale controindicazione delle parine è l'aumentato rischio o la presenza di emorragie E in effetti è anche il principale effetto collaterale che deve essere comunicato immediatamente al medico E bisogna fare anche molta attenzione ad eventuali farmaci assunti in contemporanea Anche un banale antinfiammatorio preso per un mal di testa può diventare un problema e aumentare il rischio di emorragie Se si verificano dei sanguinamenti ci si rivolge al medico se non è possibile al pronto soccorso L'eparina può essere neutralizzata con un antidoto che è la protamina solfato Comunque niente paura, l'eparina è un farmaco molto ben tollerato utilizzato in tantissime casistiche Viene ad esempio utilizzato anche in gravidanza nelle gestanti a rischio di trombosi venosa profonda Grazie al fatto che non attraversa la barriera placentare non ci sono rischi per il feto La situazione viene comunque sempre monitorata dal ginecologo Passiamo ora alla parte operativa della somministrazione di eparina Purtroppo questo farmaco non può essere somministrato per via orale Perché la sua molecola verrebbe digerita diventando totalmente inefficace Deve essere quindi iniettata La molecola di eparina ad alto peso molecolare non frazionata Può essere iniettata esclusivamente in dovina o in infusione lenta sotto controllo medico Invece per la terapia domiciliare sono disponibili eparine frazionate o a basso peso molecolare In siringhe preriempite che facilitano molto la somministrazione da parte del paziente stesso O di un suo familiare anche se non hanno una formazione specifica Chiaramente bisogna sempre far riferimento al foglietto illustrativo del proprio farmaco E alle indicazioni ricevute dal medico Ma per conoscenza vediamo delle indicazioni generali L'eparina deve essere iniettata nel tessuto sottocutaneo In zone ben vascolarizzate ma lontane dai muscoli Praticamente in delle zone dove è semplice con l'indice e il pollice Prendere delle pieghe cutanee dette pliche Le zone migliori quindi sono la regione antero-addominale Ma ad almeno 10 cm di distanza dall'ombelico Parte alta del braccio, del gluteo o della coscia La zona va cambiata ad ogni somministrazione per evitare ripetute iniezioni nello stesso punto Per effettuare l'iniezione come sempre bisogna prima lavare accuratamente le mani E disinfettare la zona dell'iniezione senza strofinare La siringa è già pronta all'uso Bisogna solo controllare che questa bollicina d'aria sia dal lato dello stantuffo Quindi si prende la piega cutanea e si effettua l'iniezione mantenendo la siringa perpendicolare alla plica Il farmaco va iniettato lentamente in un tempo che va dai 10 ai 30 secondi Quindi si rimuove l'ago e si preme un pochino sulla zona dell'iniezione Nel caso delle siringhe pre riempite di eparina si devono evitare tre errori che comunemente molti committono Non bisogna far andare via la bollicina d'aria che deve essere semplicemente dal lato dello stantuffo Una volta inserito l'ago non bisogna aspirare per controllare di non aver preso un capillare E alla fine dell'iniezione non bisogna né massaggiare né strofinare, soltanto premere In ogni caso non bisogna avere timore perché queste siringhe pre riempite sono progettate proprio per ridurre il rischio di errore Molti temono di prendere il muscolo ma è impossibile perché l'ago è molto piccolo E comunque nella peggiore dell'ipotesi iniettata nel muscolo l'eparina non avrebbe l'efficacia desiderata Bisogna stare solamente attenti ad evitare zone con alterazioni strutturali Ad esempio con ustioni o nei casi in cui c'è un'eccessiva magrezza Scegliere una zona dove l'applica sia abbastanza spessa Abbiamo visto cos'è l'eparina, a cosa serve e come si somministra Se hai domande lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te